Ex segretario del Partito Democratico Pierluigi Berzani, 62 anni, si è sentito male questa mattina domenica 5 gennaio avvertendo malessere e attacchi di forte nausea. Dall'esame dell'attacca è risultata un'emorragia cerebrale di lieve entità che ha però reso necessario il suo trasferimento a Parma per un intervento immediato che è durato quattro ore e che si è concluso alle 22 di questa sera. Secondo quanto riportato dal suo portavoce sembra per fortuna che non ci siano conseguenze dal punto di vista neurologico e molti hanno manifestato la loro vicinanza al politico in particolare il presidente del consiglio Enrico Letta che sta seguendo la vicenda da molto vicino in contatto con i familiari. Matteo Renzi su Twitter esprime il suo sostegno scrivendo un abbraccio fortissimo. Anche Silvio Berlusconi scrive gli auguro di tutto cuore che possa superare il più presto questo momento difficile per tornare alla sua attività politica e dai suoi cari. Un abbraccio affettuoso ad un avversario leale.